Buongiorno, oggi parleremo della compagnia di Gesù, ovvero dei gesuiti, come i suoi membri sono più conosciuti. Siamo nel contesto della controriforma, quindi l'Europa del XVI secolo, periodo travagliato da contrasti economici, da scoperte geografiche e dalla riforma protestante. La Chiesa Cattolica sente l'esigenza ad un certo punto di rispondere a queste nuove sfide poste in atto dai protestanti, verrà convocato un concilio, il Concilio di Trento, di cui parleremo, ma prima ancora del Concilio di Trento nasce un nuovo ordine religioso cattolico, che sarà l'ordine religioso controriformato per eccellenza. Quando si parla di riforma o di controriforma cattolica, l'ordine religioso protagonista di queste nuove istanze culturali fu proprio la compagnia di Gesù, ovvero i gesuiti. Oggi parliamo di questo. Allora, il fondatore. La compagnia di Gesù venne fondata da uno dei santi più famosi, famoso proprio per essere il padre dei gesuiti, Sant'Ignazio di Loyola. Sant'Ignazio nasce, non era ancora santo ovviamente, quando è nato, e i santi vengono sempre proclamati post mortem, naturalmente. Comunque Ignazio nasce nel 1491, nel castello di Loyola. Il fatto che nasca in un castello ci dice che nasce in una famiglia aristocratica e pertanto, come capitava spesso al tempo, i giovani rampolli delle famiglie aristocratiche vengono presto avviati alla carriera militare, anche Sant'Ignazio. Si ruola nell'esercito di Carlo V, siamo nei paesi baschi, era territorio spagnolo. Sapete che all'inizio del Cinquecento ci sono guerre interminabili tra Spagna e Francia, tra Carlo V e Francesco I. Insomma, ad un certo punto il nostro Ignazio fa carriera, era un militare carismatico, all'età di 30 anni e si ritrova coinvolto in uno scontro militare. I francesi stavano assediando Pamplona, siamo sempre nel nord della Spagna, e lui rimane ferito ad una gamba. Questa ferita lo costringerà alla immobilità per circa tre mesi. Durante questi tre mesi Ignazio conosce una profonda trasformazione interiore. Non può fare nulla, è fermo a letto, decide di leggere molto e legge diversi libri di spiritualità e uno in particolare lo segnerà nel profondo in modo definitivo, e cioè la leggenda aurea di Jacopo da Varagine. È un testo arcinoto in cui si raccolgono una serie di agiografie, è storicale al XIII secolo, e contiene una serie di vite di santi. Insomma, approfondendo questa lettura, il giovane Ignazio, giovane insomma aveva 30 anni, si converte e decide che lui sì, avrebbe continuato ad essere un cavaliere o un soldato, ma un cavaliere posto al servizio di Cristo, della fede cristiana. Per cui lui si rimette in piedi e dopo circa tre mesi abbandona le armi e si ritira presso Barcellona. Si dà ad una vita ascettica e alla cura degli ammalati. Assomiglia un po' a San Francesco da un certo punto di vista. Anche lui no, è un assisiate che entra in guerra contro Perugia, viene fatto prigioniero, a seguito di una sofferenza materiale e spirituale si converte. Ecco, in questo periodo di ascesi e di attività caritatevole, scrive anche un'opera che è rimasta molto famosa, viene letta e che è vissuta ancora oggi giorno, che sono gli esercizi spirituali. Ancora oggi delle persone utilizzano gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio appunto per praticare degli esercizi spirituali volti a edificare l'anima. Sant'Ignazio si rende conto che per l'elevazione dell'anima la spiritualità certo è importante, ma non meno importante è l'aspetto intellettuale. Aveva già oltrepassato la soglia dei trent'anni e decide di iscriversi all'università di Barcellona, soprattutto per imparare il latino. Era particolarmente più vecchio dei suoi compagni di classe, evidentemente, tanto che veniva visto un po' come un maestro di studi ma anche di vita. E lì non si risparmiò all'università, faceva opera di apostolato e proponeva i propri esercizi spirituali a tutti coloro che ne necessitavano. Tanto che le autorità accademiche si insospettiscono, non capiscono bene che sia questo soggetto, se sia ortodosso, se sia eretico, quale tipo di cristianesimo professi. Vi ricordo che ormai era già scoppiata la riforma protestante, o comunque il clima culturale era quello dell'estrema attenzione all'ortodossia. Insomma, le autorità di Barcellona lo denunciano al Tribunale dell'Inquisizione. Viene processato, ma viene anche rilasciato perché viene considerato lui e il suo pensiero assolutamente ortodosso. Si trasferirà ad un'altra università, era voglia di studiare questa, all'università di Salamanca, che era la migliore università della Spagna del tempo, dove insegnava per esempio un grande professore, Francisco de Vittoria, e ancora l'università di Salamanca verrà sottoposto ad un processo inquisitorio. Ancora nutrivano sospetti sulla sua ortodossia. Ancora una volta lui ne esce assolutamente immacolato, però con una consapevolezza di essere estremamente lacunoso nella dottrina cattolica, perché a un certo punto gli inquisitori gli domandarono la differenza tra peccato veniale e peccato mortale. Egli non seppe rispondere e quindi questo non era naturalmente motivo sufficiente per dichiararlo eretico, al massimo sarebbe stato ignorante, ma non eretico. Però si rese conto lui di sapere e di non sapere, per dirla con Socrate, per cui ancora una volta decise di cambiare università e di trasferirsi a Parigi. Andò a studiare con i dominicani, che erano maestri di dottrina cattolica, e si formò, da un punto di vista teologico, alla scuola di un pilastro della chiesa che è San Tommaso d'Aquino. Ebbene, proprio a Parigi, finalmente siamo nel 1534, e gli raduna attorno a sé un gruppo di discepoli, di amici che poi divennero anche di discepoli, e formò la compagnia di Gesù. Correva l'anno 1534. Nel giro di poco tempo questa compagnia di Gesù, che poi divenne nota appunto come i Gesuiti, ricevette anche l'approvazione da parte del Papa. Correva l'anno 1540. Il Papa che approvò l'istituzione di questo nuovo ordine religioso, appena fondato da Ignazio, era Paolo III. Qual era l'identità di questa compagnia di Gesù? Quali erano i tratti caratteristici? Beh, innanzitutto i membri dovevano professare i cosiddetti tre consigli evangelici. Quello era un minimo comune denominatore che riguardava tutti gli ordini religiosi, e quindi castità, povertà, obbedienza. Poi i Gesuiti, ovvero i membri della compagnia di Gesù, facevano anche un voto particolare, e cioè di assoluta obbedienza al Pontefice. Assoluta obbedienza al Pontefice. Avrebbero dovuto obbedire, così si diceva, come dei cadaveri. Cioè, obbedire in maniera completamente passiva, passiva, o seppiosa, ma per così dire passiva, alla volontà del Pontefice. O se vogliamo dirgli in un altro termine, aderire così tanto alla dottrina, alla Chiesa Cattolica, da riconoscere nel Papa il Vicario di Cristo e quindi nel seguirlo in tutti i modi possibili. Questo voto di assoluta obbedienza al Pontefice era un voto che evidentemente cozzava contro tutto il mondo protestante riformato. Lutero vedeva nel Papa l'Anticristo. Ignazio, invece, fa professare a sé e ai suoi discepoli l'assoluta obbedienza al Pontefice. Non potremmo essere più distanti. E un altro tratto caratteristico della compagnia di Gesù sarà la volontà originaria di Ignazio di dedicare la vita sua e dei suoi discepoli alle missioni apostoliche evangelizzatrici in Terra Santa, a Gerusalemme. Lui stesso si era recato per un pellegrinaggio, era rimasto colpito, avrebbe voluto tornare in forza, non in forza delle armi, ma in forza della fede, con un cospicuo numero di discepoli, per poter evangelizzare quelle terre, la Terra Santa. Tanto è vero che in quello stesso 1540, ottenuta l'approvazione del Papa, egli e i suoi discepoli volevano imbarcarsi a Venezia, in genere si partiva da lì, per recarsi in Terra Santa, ma venne loro impedito di farlo. Perché purtroppo in quel momento si stava consumando la Terza Guerra, Veneto-Turca. In tutto saranno sette le guerre tra Venezia e l'impero ottomano. Venezia fu sempre il grande baluardo che nel Mediterraneo cercò di arginare l'espansione degli ottomani. Ecco, in quel momento, fatalità, capitava piuttosto spesso, facendo i calcoli, un anno ogni cinque Venezia era in guerra contro gli ottomani, ecco in quel momento si stava consumando la Terza Guerra, tra Venezia e i turchi, e quindi non era possibile salpare perché il Mediterraneo era estremamente pericoloso. Per cui Ignazio convertì quel voto di recarsi in Terra Santa per evangelizzare quelle terre in un voto più generale, più universale per così dire, cioè un voto, si chiama così, circa missiones, cioè sulle missioni che Ignazio e i suoi Gesuiti avrebbero intrapreso in tutto il mondo, a quel punto lì, ovunque fosse stata necessaria la presenza di missionari per evangelizzare popoli che ancora non conoscevano il nome di Cristo. Per cui rinunciò alla Terra Santa, ma si aprì per così dire a tutto il mondo. Infatti vedremo che i Gesuiti si imbarcheranno per le rotte più distanti. I Gesuiti divennero l'ordine missionario per eccellenza. Svolsero missioni ad infra, per così dire, in Europa, le cosiddette missioni interne, per cercare di recuperare al cattolicesimo tutte quelle terre che si erano convertite al protestantesimo, ma intrapresero moltissime missioni anche ad extra, cioè missioni extraeuropee e su questo magari torneremo. Naturalmente un ordine così attivo, così dinamico e così diffuso poi su tutto il globo dall'Asia all'America era un ordine che per rimanere compatto necessitava di un forte ordine gerarchico, di una forte disciplina gerarchica, altrimenti si sarebbe frantumato in tutte le sue province così distanti e così poco legate e con molte difficoltà a comunicare le une con le altre. Non a caso il capo dei Gesuiti venne chiamato generale, forse qui c'è una reminiscenza del passato militare di Sant'Ignazio. Generale dei Gesuiti è il capo dei Gesuiti ed era una carica che durava per tutta la vita, quindi una volta eletti generali si restava generali fino alla morte, alla morte di un generale ne sarebbe stato eletto un altro. Il generale dei Gesuiti poi col tempo assunse sempre più potere, più prestigio, perché piano piano l'ordine dei Gesuiti divenne sempre più importante, più diffuso e anche più potente, sia intellettualmente che economicamente. Tanto che il generale assunse poi anche il nome di Papa Nero, il Papa Nero, non perché avesse necessariamente la pelle nera, non c'entra nulla, il nero ha a che fare con l'abito, per cui con l'espressione il Papa Nero si voleva indicare una persona potente tanto quanto il Papa, o quasi, nel momento di massima fioritura dei Gesuiti, ma che vestiva non di bianco ma di nero. I Gesuiti si resero conto che per ottemperare al meglio a questo voto circa missiones avrebbero dovuto prepararsi, avrebbero dovuto essere estremamente esperti e conoscitiori della dottrina cattolica, come fa un missionario a parlare di Cristo e a magari anche risultare convincente se non conosce la Bibbia, le scritture o la teologia. E non basta una conoscenza superficiale, ci vuole una conoscenza approfondita. Il problema però qual era? Che in quei decenni lì, parliamo sempre degli anni seguenti al 1540, scuole di formazione teologica ce n'erano poche e anche molto scarse. Questo sarà uno dei grandi problemi che poi affronterà il Concilio di Trento e che risolverà istituendo i seminari, seminari che esistono ancora oggi e che sono quelle scuole che servono per formare i futuri sacerdoti. Ecco, in questo momento i seminari non ce n'erano ancora e le scuole che di formazione teologica lasciavano molto a desiderare, per cui Sant'Ignazio, che prendeva sempre le cose di petto, decise di istituire in proprio delle scuole che avrebbero formato i propri gesuiti. Nascono così i collegi. Questi collegi nel giro di pochissimo tempo divennero scuole di livello eccellente, straordinario, tanto che questi collegi non solo formavano i gesuiti, cioè coloro che avrebbero voluto diventare gesuiti e poi missionari, ma questi collegi finirono anche con il formare i laici. Perché piano piano, ma nemmeno troppo piano piano, i principi, i re, i nobili, le repubbliche, i grandi poteri laici fecero pressione sulla compagnia di Gesù e quindi poi soprattutto su Sant'Ignazio affinché i collegi, appena istituiti ma già così brillanti, aprissero le porte anche ai laici e i gesuiti accettarono. Fu un successo straordinario che andava al di là dell'immaginazione di Sant'Ignazio. Vedete, il primo collegio che venne istituito, venne istituito a Messina e venne istituito nel 1548. Guardate nel giro di pochi decenni quanti collegi nuovi vennero istituiti. Tutti dal nulla. Già dopo pochi anni, nel 56, l'anno di morte di Sant'Ignazio, i collegi erano 33, nel 1580 i collegi erano 140 e nei primi anni del 1600 i collegi schizzarono addirittura a 245. Quindi un successo straordinario che nemmeno i gesuiti si aspettavano. Nella cartina retrostante vedete per ogni pallino la presenza di un collegio. Siamo verso la metà del 1600. Vedete, sembra che l'Europa sia quasi affetta dal morbillo. Ogni puntino, per dire che ce ne sono tantissimi, è un collegio. Li vedete in Spagna, in Germania, in Francia, in Russia, in Ungheria, praticamente ovunque. Pensate che addirittura il generale successivo a Ignazio, Claudio Acquaviva, siamo a cavallo tra il 1500 e il 1600. Dovete rifiutare la proposta di creare altri 60 collegi. Cioè la richiesta era tale per cui i gesuiti avrebbero dovuto crearne altri 60 e quindi arrivare quasi a 300, forse anche più di 300 collegi in Europa. Il problema è che mancavano a certo punto i professori. Perché i collegi si diffusero grazie alla qualità dell'insegnamento e trovare professori che fossero all'altezza era molto difficile. Per cui per mancanza di personale docente non si poteva soddisfare fino in fondo l'esigenza che proveniva dal basso di istituire nuovi collegi. Faccio vedere appena qualche immagine, vedete, così a titolo esemplificativo. Questo è il collegio dei gesuiti in Portogallo, uno dei tanti a Evora. Si trova ancora oggi, è in piedi ed è visitabile. Questo invece è il collegio in assoluto più importante, il collegio romano. Si chiamava proprio così, sorgeva a Roma evidentemente. Attualmente è sede dell'università gregoriana. Ecco, e così via per moltissimi altri collegi. Pensate che al collegio romano, che fu il prototipo poi di tutti gli altri collegi, anche se non fu il primo ad essere edificato, ospitava più di un migliaio di studenti provenienti da tutta Europa. E molti di questi non avevano intenzione di prendere i voti. Quindi erano laici che intendevano rimanere laici, ma si appoggiavano i gesuiti perché riconoscevano loro una straordinaria capacità contenutistica e didattica. C'è da dire che un altro elemento che rendeva molto gettonata l'opzione gesuitica dei collegi era il fatto che i collegi fossero gratuiti. Agli studenti non si richiedeva nessun tipo diretta, per cui i collegi erano aperti tanto ai ricchi quanto ai poveri. Naturalmente come facevano i gesuiti a stipendiare i professori, perché bisognava pur pagare il corpo docente, era quella la grossa voce di spesa, attivavano attività economiche extrascolastiche, il cui ricavato veniva utilizzato per stipendiare i professori. E tra l'altro i gesuiti furono estremamente capaci anche in campo economico, cioè nel creare queste attività economiche di varia natura per poter gestire le spese dell'ordine, pensate un ordine missionario in tutto il mondo, quante spese doveva sobarcarsi, ma per gestire anche tutto l'apparato scolastico legato ai collegi. Per cui a lungo andare i gesuiti divennero non solo un ordine radicato sul territorio e intellettualmente estremamente potente, prestigioso, ma anche economicamente florido. Per cui potete immaginare tutte le invidie e l'ostilità che piano piano si attirarono, no? Un ordine che nasce dal nulla nel giro di poco tempo si impone in campo intellettuale in campo economico. Moltissimi ammireranno questo ordine, ma come spesso accade, quando qualcuno spicca per doti particolari poi si crea anche molti nemici. Infatti nella seconda metà del 1700, in epoca illuministica, moltissimi stati in tutta Europa chiederanno la soppressione dell'ordine dei gesuiti, cosa che per qualche decennio anche avverrà, a dire il vero. Ma questo molti secoli più tardi. Vi dicevo che i collegi accettavano chiunque, rampolli delle classi elevate, ma anche persone provenienti da ceti sociali più bassi, e basta dare una scorsa a tutti i grandi nomi che frequentarono le scuole dei gesuiti in quegli anni, a dire il vero dal 1500 al 1700, per rendersi conto che presso i gesuiti si formò il fiorfiore della classe dirigente europea o della classe intellettuale europea. Non tutti gli intellettuali ovviamente si recarono a studiare presso i gesuiti, ma moltissimi nomi importanti studiarono proprio presso i collegi. Per esempio Galileo Galilei in un primo momento studiò anche lui matematica al collegio romano. O per esempio Gian Battista Vico, un grande filosofo napoletano. Oppure Voltaire, Voltaire è curioso perché sarà uno dei maggiori protagonisti del periodo illuministico e sarà un viscerale pensatore anticlericale e soprattutto un viscerale pensatore antigesuita. Scrisse moltissime pagine criticando la compagnia di Gesù. Ciò non di meno lui si formò proprio alla scuola dei gesuiti. Poi in punto di morte si convertirà, ma di fatto tutto quello che scrive è marcatamente anticlericale e soprattutto molto severo nei confronti dei gesuiti. Ma poi abbiamo per esempio Cartesio, Renato Cartesio, filosofo, matematico, padre degli assi cartesiani. Anche lui studiò presso i gesuiti e così via una serie di nomi molto importanti. Potete immaginare che questa presenza dei gesuiti e dei loro collegi in tutta Europa finì con l'entrare in contrasto con molte università secolari, cioè con molte università che avevano molti anni di storia alle spalle e che erano di carattere laico per così dire, anche se poi molte università come quella di Parigi vennero fondate da papi. Però avevano un carattere più laico, mentre i collegi dei gesuiti avevano un carattere più marcatamente religioso, anche se poi la cultura spaziava a 360 gradi, come vedremo tra poco. Insomma, alcune università prestigiosissime chiesero la cacciata dei gesuiti. Perché? Perché i collegi dei gesuiti erano così efficienti in termini scolastici da entrare in competizione con le strutture universitarie più antiche e quindi finivano con il sottrarre studenti, con il rubare studenti a università che di studenti per funzionare avevano bisogno. E quindi l'università Sorbona di Parigi a un certo punto entra in rotta di collisione con i gesuiti, li voleva cacciare. E la stessa cosa venne a Padova. Ecco, anche a Padova la questione è piuttosto interessante. Sapete che a Padova c'è una delle università più antiche e più prestigiose d'Europa. Nasce nel 1222, non è la prima in assoluta, ma è una delle prime. È un'università che richiamava studenti da tutta Europa, dalla Polonia, dalla Francia, dalla Spagna, dalla Germania, da ovunque. I gesuiti cominciano a penetrare anche a Padova, siamo sempre verso la metà del 1500, non sappiamo esattamente quando i gesuiti giunsero a Padova, e cominciarono a istituire anche lì delle scuole, delle scuole che piano piano aumentarono sempre di più il livello fino ad essere equiparate a delle vere e proprie università. Tanto è vero che gli studenti di Padova si divisero in due fazioni, i cosiddetti gesuiti, cioè gli studenti che seguivano i corsi dei gesuiti, e i cosiddetti bovisti, cioè coloro che frequentavano Palazzo Bo. Palazzo Bo è la sede storica dell'università di Padova, e tra questi due gruppi di studenti se ne dicevano di tutti i colori, quando andava bene con l'ironia, quando andava meno bene con delle scritte sui muri e con degli insulti, quando andava ancora meno bene con episodi di violenza, che nelle varie università, anche in quelle di Padova, non mancarono mai, a dire il vero. La gogliardia universitaria, in particolare la gogliardia patavina, fu straordinaria da un certo punto di vista, ma poi talvolta sfociava in efferati episodi di violenza che purtroppo produssero anche alcuni morti, ma questo è un altro capitolo. Insomma, con i gesuiti arrivano un po' in tutta Europa e anche a Padova, per fare l'esempio a noi più vicino, e l'università di Padova, nonché gli studenti, cominciano a soffrire questo confronto. Come va a finire? Le autorità universitarie di Padova si appellano a Venezia, perché l'università di Padova in quel momento faceva parte dello stato della Serenissima, e le autorità veneziane fondamentalmente prendono le difese dell'università di Padova e obbligano i gesuiti a sospendere ogni tipo di insegnamento universitario, in modo tale da tutelare l'università patavina. Ecco, questo per dire a che livello didattico qualitativo giunsero i gesuiti. Un livello straordinario, che giunse a minacciare il monopolio a Padova, o a Parigi, di università prestigiosissime di antica data. In cosa consisteva il modello didattico dei gesuiti all'interno dei collegi? Beh, allora, innanzitutto i gesuiti in quanto tali dovevano studiare tantissimo. I gesuiti in genere avevano due, se non addirittura tre lauree, potevano studiare anche a diciassette, vent'anni. Era l'ordine più colto, insieme ai domenicani, della chiesa cattolica in quel momento. Ecco perché poi avranno anche molto successo nella loro predicazione, evidentemente. Però non tutti coloro che frequentavano i collegi, abbiamo detto, intendevano diventare gesuiti. Per cui, in genere, il metodo didattico, proprio dei gesuiti, prese il nome, eccoci qua, di Ratio Studiorum. Cioè, con Ratio Studiorum intendiamo il modello didattico pedagogico elaborato dai gesuiti e in vigore presso i loro collegi. Era un modello che faceva sintesi di due componenti essenziali. La formazione intellettuale, evidentemente, ma anche l'educazione morale. Cioè, all'interno dei collegi si cercava di formare tutta quanta la personalità, l'aspetto intellettuale, l'aspetto morale e poi anche, evidentemente, l'aspetto spirituale. Ecco, questo modello, che adesso vedremo un po' meglio nel dettaglio, non nacque bello e fatto dall'oggi al domani. Ci vollero alcuni decenni di gestazione, evidentemente. Fu un modello che fece sintesi di alcuni grandi modelli educativi ereditati dal passato, ma anche di tutti i suggerimenti e le esperienze che le varie province gesuitiche disseminate nel mondo raccoglievano mandando a Roma o presso il generale. Cioè, i gesuiti fecero proprio quel versetto di San Paolo, esaminate tutto, tenete ciò che è buono. Guardarono al passato, nella storia, per assorbire i modelli più efficaci e guardarono nello spazio, per così dire, a 360 gradi tra le loro province, per raccogliere le esperienze sul campo dalle quali ricavare preziosi insegnamenti. Insomma, guardando al passato e guardando al presente con un occhio molto vasto, alla fine venne elaborato questo modello pedagogico che ebbe un successo straordinario. La sua prima promulgazione ufficiale fu proprio alla fine del 1500, 1599, la cosiddetta Ratio Studiorum. Ecco, questo modello cosa prevedeva? Beh, innanzitutto era un modello che prevedeva, che vedeva nella scuola, nei collegi, non su una semplice, un semplice strumento di trasmissione del sapere, ma un ambiente in cui doveva formarsi una sorta di comunità di vita. Per esempio, agli insegnanti veniva fortemente suggerito, se non imposto, di frequentare i loro studenti anche al di là delle ore di lezione, in modo tale che si creasse un rapporto umano più profondo, non irretito sulla relazione didattica sic et sempliciter. Agli studenti veniva imposto di frequentarsi anche fuori dalla classe. Tenete conto che le classi erano poco numerose, così era previsto dalla Ratio Studiorum, 10 persone per classe, per cui era più facile creare un certo affiatamento tra i membri, i quali avrebbero dovuto frequentarsi anche fuori, proprio perché le relazioni umane aiutano non solo il processo di apprendimento, ma anche lo sviluppo e l'edificazione della personalità. La Ratio Studiorum prevedeva, era molto moderna da questo punto di vista, che gli insegnanti individuassero obiettivi, programmi e metodologie didattiche, seguendo uno schema specifico. Tra le metodologie didattiche si prevedevano esercizi scritti, esercizi orali, esattamente come avviene oggi, ma anche pubbliche discussioni su alcuni argomenti. E questa è una cosa molto bella che oggigiorno si è un po' persa. Il tutto, ripeto, aveva come scopo quello di stimolare tutte le facoltà della persona, intellettuali, morali, relazionali, spirituali, evidentemente, perché la compagnia di Gesù in ultima analisi era un ordine religioso, ma aperto, apertissimo alla cultura in senso lato. Che discipline venivano insegnate? Ma praticamente tutte, perché i gesuiti erano consapevoli del fatto che ogni sapere, inquadrato in un corretto ordine gerarchico, non può fare altro che contribuire all'edificazione della persona. Per cui venivano insegnate materie umanistiche, veniva insegnate e arci insegnate materie scientifiche, i migliori matematici astronomi del tempo in genere erano gesuiti, tanto per dire, venivano insegnate ovviamente materie teologiche, ma poi venivano insegnate anche materie che erano particolarmente care ai rampolli dell'aristocrazia, la danza, l'equitazione, lo schermo. Si prestava molta attenzione al teatro, all'arte teatrale. Attraverso l'arte teatrale i gesuiti potevano veicolare, per esempio, tutta una serie di valori legati alla pietas cristiana. E naturalmente si doveva imparare il latino, il latino era come l'inglese oggigiorno, la lingua internazionale, serviva a tutti, serviva soprattutto ai gesuiti, un ordine missionario disseminato in tutto il mondo, c'erano gesuiti tedeschi, gesuiti portoghesi, poi ci saranno gesuiti americani. Bisognava padroneggiare nel modo migliore la lingua franca del tempo che era il latino. Tenete conto però che tutte queste materie venivano studiate una alla volta. Questa è una cosa che noi non facciamo più, perché si pensava che studiando una materia alla volta la si assimilasse meglio, ci si potesse immergere totalmente in quella materia e quindi in ultima analisi assimilarla meglio. E inoltre la ratio studiorum dava molta importanza all'aspetto mnemonico, alla memoria. Questi due ultimi aspetti, studiare una materia per volta e il forte apprezzamento all'aspetto mnemonico, oggigiorno li abbiamo persi, a dire il vero. Non studiamo tante materie insieme e in genere nei confronti della memoria siamo abbastanza scettici. Uno studio impostato troppo sulla memoria viene accusato di sterile nozionismo, che da un lato è anche vero da un certo punto di vista, ma dall'altro punto di vista la memoria rimane una facoltà imprescindibile che noi oggigiorno sottovalutiamo. Non si vive di solo memoria, ma la memoria rimane comunque fondamentale. Chi esercita la memoria nella vita ha un'arma in più, non c'è niente da fare. Ancora, e finisco con la ratio studiorum, i gesuiti prevedevano un insegnamento per quanto possibile personalizzato. Cioè, nelle scuole dei gesuiti un certo livello era obbligatorio per tutti, un certo altro livello diventava facoltativo. Cioè, banalmente alcuni esercizi erano affidati a tutti, per i più volenterosi, per i più dotati, per i più ambiziosi, venivano assegnati anche esercizi o livelli di difficoltà maggiore, in modo tale che tutti raggiungessero un buon livello minimo, ma la soglia minima era già molto buona nei collegi dei gesuiti, e i più volenterosi potessero eccellere. Per cercare di stimolare al massimo gli studenti organizzavano anche delle gare con dei premi, in modo tale che da stimolare in tutti i modi anche coloro che magari erano più pigri o più propensi ad adagiarsi alla soglia minima della conoscenza. Oppure ancora, veniva stimolato in vari modi l'emulazione. Il più bravo doveva cercare di trascinare verso di sé anche gli altri compagni della sua classe, che comunque, vi ripeto, non erano molti. Contrariamente a ciò che a volte si sente dire, e cioè che scienza e fede siano in netto contrasto, che ci sia una contraddizione, come dire, ontologica, viscerale tra scienza e fede, i gesuiti dimostrarono che era possibile essere cristiani, essere cattolici, ed essere anche al passo con i tempi, cioè essere bravi se non ottimi scienziati. Molti gesuiti furono protagonisti del progresso scientifico. Quindi non solo non ostacolarono il progresso scientifico, ma addirittura ne furono protagonisti. Possiamo fare alcuni grandi nomi. Ce ne sarebbero altri, ma è giusto per dare un'idea. Per esempio, Orazio Grassi fu un gesuita, astronomo, e lui entrò in polemica con Galileo Galilei. L'oggetto del contendere erano le comete. Le comete che cos'erano? Perché visivamente la cometa è un fascio luminoso, diciamo così, ma oggettivamente dove si trovava quella cometa? All'interno dell'atmosfera oppure oltre l'atmosfera? Galileo Galilei sosteneva che le comete fossero un fenomeno luminoso che risiedesse all'interno dell'atmosfera, mentre Orazio Grassi entra in polemica affermando che le comete erano dei corpi cosiddetti sopralunari, cioè che stavano ben al di là dell'atmosfera. Evidentemente noi sappiamo che Galilei aveva torto e Grassi aveva ragione. In questo caso abbiamo un gesuita che riesce ad affermarsi e anche a smentire uno dei più grandi scienziati del tempo, che era Galileo Galilei. Poi c'è tutta l'altra discussione su Galileo Galilei e dell'egliocentrismo, ma non entriamo su questo discorso perché sarebbe tutto un altro capitolo. Vero è in quel caso che Galileo Galilei entra in rotta di collisione con alcuni gesuiti, per il discorso dell'egliocentrismo, ma vero anche è che i gesuiti smascherarono il punto debole di Galileo Galilei, e cioè gli rinfacciarono di non aver prodotto, e giustamente, di non aver prodotto nessuna prova empirica del movimento della Terra. Onda per cui i gesuiti dissero a Galilei, per bocca del cardinale Roberto Bellarmino, che non avrebbero accettato l'ipotesi egliocentrica fino a quando Galilei non avesse offerto le prove. Galilei pensò che la prova del movimento della Terra fossero le maree, ma i gesuiti smentirono giustamente anche quella prova, e pertanto non si ritennero in dovere di accettare come teoria vera l'egliocentrismo, ma al massimo come strumento di calcolo. Ma questo, ripeto, è tutto un altro capitolo. Un altro gesuita importante fu questo Ruggero Boscovici, siamo nel 1700, fu il primo, e comunque uno dei più importanti, astronomi, ad introdurre in Italia il pensiero di Isaac Newton. Quindi siamo all'avanguardia. Poi abbiamo Lazzaro Spallanzani, ricorderete l'ospedale Spallanzani di Roma, che appunto è intitolato questo gesuita. Lazzaro Spallanzani era un biologo, e lui dimostrò, per esempio, che la digestione non consiste solo nello sminuzzamento del cibo che mangiamo, ma in un processo chimico di trasformazione vera e propria. Spallanzani fu il padre, per così dire, della fecondazione artificiale. Studiò molto i processi riproduttivi e riuscì anche, appunto, a produrre questo fenomeno artificiale di fecondazione con le uova della rospo e della rana. Ma ancora Lazzaro Spallanzani fu colui che, insieme a Francesco Redi, dimostrò la falsità della abiogenesi. L'abiogenesi è quella teoria che afferma che la vita può nascere dalla non vita, cioè che la materia organica possa evolversi dalla materia inorganica, cioè, per così dire, che le cellule nascano in qualche modo dai sassi. Ok? È falso, non è così. Ogni volta che noi siamo in presenza di vita, sappiamo che la vita è sempre stata causata da altra vita. Apro e chiudo la parentesi, ancora oggi noi non sappiamo come sia nato il primo organismo vivente. La vita non c'è da sempre, di questo siamo sicuri. Siamo anche sicuri che ogni forma di vita attuale presupponga una forma di vita precedente. Possiamo concludere che la vita ha cominciato ad esistere ad un certo punto in poi, ma che prima di quel certo punto non ci fosse la vita. Per cui rimane la domanda su come si è originata la prima forma di vita dalla quale poi è discesa, in qualche modo, tutta la restante vita. Ecco, Spallanzani e Redi dimostrano che la vita può nascere solo dalla vita. E ancora oggi questa teoria è assolutamente certa e unanimamente accettata. Poi abbiamo Angelo Secchi. Angelo Secchi era un altro astronomo. I gesuiti più brillanti in genere erano matematici e astronomi. Angelo Secchi è il padre della spettroscopia, cioè dello studio degli spettri delle stelle, dello spettro luminoso di una stella. Noi oggi possiamo sapere che in una stella o in un corpo celeste è presente del ferro, dell'idrogeno o quant'altro. Come facciamo a saperlo? Non possiamo andare là fisicamente. Pensate che nell'Ottocento dicevano che noi non potremmo mai sapere di cosa è composto un corpo celeste, perché per saperlo dovremmo andare là e raccoglierne la materia. Ecco, non è vero perché da Angelo Secchi in poi noi sappiamo che analizzando lo spettro luminoso di un corpo celeste e possiamo anche capirne moltissime proprietà fisiche. Per esempio, la materia di cui è composto. Anche lui fu un gesuita. E poi un ultimo nome importante è George Lemaitre. George Lemaitre era un sacerdote belga, gesuita, ed è il teorico del Big Bang. L'ipotesi del Big Bang, oggigiorno accreditata da tantissimi studiosi, non l'unica sulla piazza, ma l'ipotesi più accreditata e che ha ricevuto più conferme empiriche, ecco, quell'ipotesi l'è stata elaborata da un gesuita belga nel 1927. Quindi qui siamo andati un po' avanti con gli anni, ma è per farvi capire come abbiamo dei nomi straordinari di gesuiti che si sono distinti anche in campo scientifico. E pensate che in quel caso uno dei primi avversari di Lemaitre, quando teorizzò appunto la presenza di questo atomo primordiale, come lo aveva chiamato lui, cioè questa, chiamiamola tra virgolette, esplosione cosmica che diede vita a tutto l'universo, in quel momento venne contestato proprio da Albert Einstein, che snobbò un pochino la teoria di Lemaitre dicendo si vede bene che siete un prete perché la vostra teoria puzza troppo di genesi, perché la teoria del Big Bang è molto simile al racconto della genesi, cioè qualcosa che viene creato dal nulla. Prima c'era il nulla, poi qualcosa comincia ad emergere e a prendere forma e a darsi un ordine. Però poi si ricredette anche a Einstein, mano a mano che vennero raccolte prove empiriche di questa prova, di questa teoria, la teoria del Big Bang. Ecco, questo per dire, e lo ripeto, come i gesuiti furono, nel bene e nel male, come tutti gli altri, protagonisti del proprio tempo. Alcuni dei gesuiti segnarono la storia della scienza. Ma andiamo avanti. I gesuiti, dicevamo, nascono poi soprattutto come ordine missionario. Saranno protagonisti in tutto il mondo. Qui lo dico in forma molto sintetica, poi magari ci riaggiorneremo più avanti per questioni più dettagliate. I gesuiti furono missionari, e vi dicevo, ad extra, fuori Europa. Vedete, per esempio, qui, sulla sinistra della slide, quel famoso film con Robert De Niro, The Mission, con quella colonna sonora straordinaria di Ennio Morricone. Ecco, quel film lì narra delle missioni dei gesuiti in Sud America presso il popolo dei Guarani. Ma abbiamo gesuiti, per esempio, che si recarono in Giappone. Un nome importante è Francesco Saverio, primo gesuita che si recò in Giappone. Ma abbiamo un altro straordinario gesuita, famosissimo, che evangelizzò la Cina, diciamo, verso la fine del 1500, Matteo Ricci, e così via. Cioè, i gesuiti si, come dire, vennero disseminati un pochino su tutto il globo. Ma soprattutto, i gesuiti divennero anche il più grande ordine evangelizzatore ad infra, cioè all'interno dell'Europa. Perché? Perché moltissimi stati europei erano passati al protestantesimo, a seguito di Lutero, di Calvino e degli altri riformatori. I gesuiti, anche grazie alla diffusione capillare dei loro collegi, riuscirono a riguadagnare al cattolicesimo moltissime terre e moltissime popolazioni. Una buona parte della Germania, come vedete nella cartina, con questo verde un pochino più scuro, non solo della Germania, ma anche della Bohemia, della Polonia, dell'Ungheria, territori in cui il calvinismo, per esempio, era molto forte, vennero riguadagnati al cattolicesimo, grazie all'azione evangelizzatrice, spirituale, ma anche intellettuale e culturale, dei gesuiti. Ebbero scarso successo in Svezia, a dire il vero, e infatti vedete che la Svezia rimane completamente un paese luterano, e fecero molta fatica ad affermarsi anche in Inghilterra e in Scozia. Lì dovettero agire addirittura in clandestinità, perché a un certo punto vennero messi al bando. Per affrontare la dottrina protestante, i gesuiti, lo diciamo con una battuta, non riusciamo a dire di più, e cercarono di smontare uno dei grandi pilastri del luteranesimo e del calvinismo, che è il sola fides. Ricordate quello che diceva Lutero, ci si salva per sola fede, pecca quanto vuoi, ma abbi una fede ancora più grande, una fede ancora maggiore. Tanto non è con le opere che ci si salva, ma è solo con la fede. Ecco, i gesuiti invece cercarono di smontare, proprio a livello teoretico-dottrinale, questo pilastro, affermando che, oltre alla fede, per la salvezza sono necessarie anche le opere, e affermando che la predestinazione, predicata soprattutto da Calvino, finisce in ultima analisi con il negare il libero arbitrio del singolo soggetto. Per cui rimase molto famosa questa frase di Sant'Ignazio, utilizzata proprio in contrapposizione al sola fides di Lutero, che è questa. Prega come se tutto dipendesse da Dio, e questo a Lutero sarebbe piaciuto, sola fides, abbandonati completamente, ma, prosegue Sant'Ignazio, agisci come se tutto dipendesse da te. Prega come se tutto dipendesse da Dio, fides, agisci come se tutto dipendesse da te. Opere, azioni. Sulle missioni interne ed esterne magari ci riaggiorneremo in un'altra lezione. Un'ultima cosa, e abbiamo finito, i gesuiti furono anche grandissimi propugnatori dello stile barocco. Lo diciamo per completezza, il barocco si afferma a Roma, diciamo più o meno simultaneamente alla parabola biografica del Bernini. Ecco, diciamo, 1620, 1680, per dare delle etichette. Comunque siamo nel 1600, evidentemente. Coloro che lo irradiarono, più o meno ovunque, non solo Europa, ma anche fuori Europa, furono soprattutto i gesuiti. il barocco è l'arte della controriforma per eccellenza. Se i gesuiti sono l'ordine religioso della controriforma per eccellenza, il barocco è lo stile artistico controriformato per eccellenza. Il barocco lo conosciamo, uno stile di forte impatto, molto appariscente, che doveva colpire più che altro il sentimento, l'interiorità del soggetto. Doveva parlare più al cuore che non alla mente e quindi stuzzicare il senso religioso dall'interno, da un punto di vista sentimentale. Il barocco si oppone, evidentemente, anche alle istanze riformate, perché pensiamo per esempio all'iconoclastia calvinista, no? Il barocco è un'esplosione di immagini, di forme, di colori. I calvinisti tendevano a distruggere non i colori in quanto tali, ma le immagini, le statue, le vetrate. Con il barocco siamo esattamente agli antipodi. Ma non solo. Il barocco era uno stile artistico che colpiva innanzitutto la vista per giungere al cuore. Quindi esaltava il senso della vista. Mentre nel mondo riformato veniva esaltato il senso dell'udito. Si diceva fides ex audito, cioè la fede, vi ricordo che per i riformati ci si salva per sola fede, la fede viene stimolata da che cosa? Dall'udito. Questo lo dice già San Paolo. Se io non sento parlare di Cristo, come faccio a credere, ad abbandonarmi con un atto di fede a Cristo? Per cui i protestanti tendevano a dare maggiore importanza alla fede piuttosto che alla visione. Con il barocco invece la vista assume un'importanza assolutamente centrale. Bene, questa era un'introduzione generale ai gesuiti e per altri dettagli forse ci aggiorniamo più avanti. Si potrebbe approfondire tutto il discorso di Matteo Ricci in Cina oppure di Francesco Savero in Giappone o anche dei gesuiti attivi in America Latina con il popolo dei Guarani. Eventualmente lo faremo in un altro momento. Arrivederci.